Buongiorno a tutti, siamo entusiasti di presentarvi una straordinaria opportunità immobiliare a Trani. Questa elegante villa unica nel suo genere è pronta a stupirvi con il suo fascino senza tempo e le sue innumerevoli qualità. Appena avarcato l'ingresso principale sarete accolti da un ampio spazio circolare dedicato al parcheggio auto, perfetto per ospitare amici e familiari in totale comodità. Proseguendo lungo il viale d'accesso, immerso in una cornice di piante ornamentali, sarete subito colpiti dall'atmosfera esclusiva e raffinata che questa proprietà emana. E' come non menzionare la magnifica piscina di notevoli dimensioni completa di docce e bagni esterni. Un vero paradiso per chi ama rilassarsi al sole, praticare sport acquatici, organizzare eventi e feste all'aperto in compagnia di amici e parenti. All'interno la villa offre un ambiente caldo e accogliente con un tocco rustico che ne esalta il carattere. Troverete un ampio soggiorno con cucina, tre camere da letto, un antibagno e un bagno, ideali per soddisfare ogni esigenza abitativa. Ma le sorprese non finiscono qui. Sul retro della villa, un delizioso giardino con piante da frutto vi regalerà angoli di pace e tranquillità. Inoltre, una seconda cucina esterna, completa di bagno con docce e una taverna, offre lo spazio perfetto per organizzare cegni all'aperto e momenti di convivialità in ogni stagione. Questa villa è la soluzione ideale sia come residenza principale per chi desidera vivere lontano dal caos cittadino, sia come struttura ricettiva o piccola sala ricevimenti, grazie alla sua versatilità e al suo fascino irresistibile. Non perdere l'occasione di scoprire questa gemma immobiliare. Se sei interessato, contattaci subito per maggiori informazioni e per fissare un appuntamento. Ti aspettiamo a Trani. Ciao, alla prossima! Grazie a tutti! Grazie a tutti!